Il Tar del Lazio ha dato il via libera alla costruzione di un nuovo pozzo di estrazione del gas che verrà scavato in mare a 22 km a largo della foce del fiume Tordino, al confine tra i territori comunali di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro, quindi tra Marche e Abruzzo. Il Tribunale Amministrativo regionale ha infatti respinto il ricorso presentato contro il Ministero della Transizione Ecologica, nonché contro l'ENISPA per l'annullamento di tutti gli atti con i quali è stato dato parere favorevole alla realizzazione di questo nuovo pozzo, ma secondo il docente e costituzionalista Enzo Di Salvatore per tentare di bloccare questo iter c'è spazio per ricorrere in appello al Consiglio di Stato. Perché non è affatto convincente, tanto perché ritiene appunto che ci sia stata la riperimetrazione e quindi per escludere dalle 12 miglia tutto il progetto, ma questo non ci risulta e poi soprattutto non è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale, ma questo avrebbe dovuto riguardare tutto il progetto, non soltanto il singolo pozzo. Anche la distanza dalla costa è dubbia, perché siamo a ciò che sostiene la società concessionaria, però nel dubbio forse avrebbe dovuto invece muovere dall'opinione contraria, cioè è la società concessionaria che deve dimostrare appunto che il pozzo sia collocato fuori dalle 12 miglia. Il ricorso, ricordiamo, era stato motivato dalle cittadine rivierasche e dalla provincia di Teramo per il fatto che la realizzazione del pozzo avrebbe potuto portare problemi al turismo balneare, che è un introito importante delle cittadine interessate e fonte di entrata economica di molte famiglie del territorio. Inoltre nella controversia era stata avanzata anche l'ipotesi che la realizzazione del nuovo pozzo potrebbe comportare l'abbassamento del fondale marino, non escludendo come conseguenza piccoli fenomeni sismici. Però spieghiamo una cosa, questo pozzo non andrebbe a risolvere i problemi di energia nel nostro paese? No, affatto, come tutte le altre 46 concessioni, rispetto alle quali le concessionarie, se volessero, potrebbero attraverso un procedimento abbastanza snello procedere all'estrazione. Questo inciderebbe in misura assai esigua sul fabbisogno energetico che l'Italia ha di gas.